Cerca di unire l'Occidente e l'Oriente, infatti troviamo il calice che per noi fa riferimento sia alla Sacra Coppa, il calice che utilizza il sacerdote e c'è Akenaton, il faraone, che dal politeismo ha portato, propose il monoteismo, per cui diciamo già una mentalità molto all'avanguardia, questa unità delle religioni, perché è la divisione che divide appunto l'uomo e le culture. Dalle conne bizantine all'arte medievale e rinascimentale, così l'artista aretina Rita Polverini si è cimentata nella ricerca di nuovi percorsi legati al simbolismo tradizionale, che sono sfociati nelle opere della mostra Percorsi Alchemici. Un percorso appunto alchemico, ma fa riferimento anche a un percorso interiore, tradotto e trasportato su queste tavole linee. Diciamo che anche è un linguaggio alchemico in quanto si parla, vengono descritte anche attraverso il colore, i simboli, questa costellazione di simboli, che richiamano a una interiorizzazione della persona, in quanto appunto attraverso queste opere uno può identificarsi e scoprire la bellezza che c'è dentro ognuno di noi. L'artista ha realizzato vere e proprie costellazioni di simboli arcaici, scolpite in tavole di legno di tiglio di grandi dimensioni, poi dipinte utilizzando colori e gomma lacca. L'esposizione sarà visitabile sino al 21 luglio all'interno del Palazzo della Fraternita dei Laici, in Piazza Grande. La scultura in basso rilievo è unica in tutta Italia, nell'Italia esiste più un tutto tondo, questa è la prima realtà e allora voglio dimostrare il 21 di luglio, l'ultimo giorno, propongono Open Day aperto a tutta la città per chi vuole venire a provare e a scolpire, qui dalle 10 e mezzo alle 12 e 30 e dalle 15 e 30 alle 17 e 30. Per cui invito la cittadinanza e anche chi non è cittadino il turista a venire a provare a utilizzare scalpello, sgorbi e mazzuoli perché questi sono gli strumenti che utilizzo normalmente per fare queste opere.